In momenti così difficili dal punto di vista sociale ed economico e della sempre maggiore difficoltà ad avere garanzie per l'accesso al credito la Prefettura di Pescara intende attivare una rete di prevenzione della quale facciano parte le forze di pulizia, le istituzioni interessate affinché il cittadino possa essere protetto per quanto più sia possibile dal rischio di cadere nella trappola tesa da usurai senza scrupoli. Dell'iniziativa ci parla il Prefetto di Pescara, Vincenzo D'Antuono. Diciamo che non abbiamo elementi per dire che c'è il racket, io non parlo dell'Abruzzo parlo ovviamente della provincia di Pescara, come lo stesso non abbiamo elementi per dire che c'è una forte presenza di usurai, tuttavia questo non ci fa stare inelti nel senso che noi abbiamo attivato questa iniziativa proprio per prevenire azioni di usura per prevenire azioni di estorsioni. È necessario che tutti assieme, come abbiamo fatto, stiamo lavorando da diversi mesi, costruiamo una rete di protezione dell'imprenditore, del commerciante e nel caso delle associazioni anti-racket e anti-sus, anche del singolo cittadino. Una delle conseguenze di questo drammatico fenomeno è il rischio omertà. Per poterlo superare è necessario che il cittadino si senta protetto. Ma adesso ci spostiamo noi sul territorio, sono stati individuati cinque ambiti territoriali, quindi questo tavolo tecnico si sposterà in loco, affiancato ovviamente dagli amministratori comunali che sono parte essenziale in questa azione di contrasto e da tutte le organizzazioni che si trovano sul singolo territorio, perché ci deve essere questa partecipazione totale e complessiva.